Sorteggio non proprio agevole per il Napoli di Mr. Sarri, che dall'urna del preliminare di Champions becca una delle due squadre che avrebbe voluto evitare, il Nizza di Mario Balotelli. In città la gente non l'ha presa bene, ma crede nella forza del gruppo. Il Napoli non è andato proprio bene al sorteggio come sempre, d'altronde gioca la prima in casa con il Nizza di Balotelli. Sicuramente non è stato un buon sorteggio per il Napoli, ma nemmeno per il Nizza, perché il Napoli è un'ottima squadra. E sicuramente può far bene, devono avere solo la coscienza di dire siamo forti, perché il Napoli non ha cambiato niente e allora si conoscono. Se lei vede l'ultima giornata di campionato, il Napoli ha fatto benissimo. Secondo me ce la potrà fare, perché è un'ottima squadra il Napoli, quindi penso che passerà il turno preliminare di Champions. Avete già preparato il cornetto benaugurante per la gara di Champions contro Balotelli? Sì, questo è il cornetto portafortuna per la partita di Champions, sicuramente il Napoli si qualificerà. L'importante, anche se giochiamo la prima in casa, è non prendere gol in casa, poi sicuramente vinceremo. Io penso che è ottimo, perché comunque si sta più concentrati del solito. Magari con una squadra meno forte si perde la concentrazione, quindi va bene così. Ma vedremo, ce la giochiamo come sempre, abbiamo giocato con squadre più forti e ce la siamo sempre giocata bene. Grazie. Grazie. Grazie.